perché i malati di mente sono tra tutti i più poveri perché hanno perso il bene essenziale e direi l'ultimo dei beni possibili che è la ragione e quindi non sono neppure in grado di porsi in modo coerente nei confronti dei loro interlocutori perché dicono ora una cosa ora un'altra radicalmente diversa e con la loro stessa vita psichica sembrano contraddire la descrizione del mondo che io vedo in me e quindi non riesco non è più a condividere i dati che mi possono circondare la mia età e quindi sono un vero scandalo sono un vero elemento di loro cultura allora io credo che il cristiano sia colui che voglia anche in quel mistero un mistero supplementare della carità è quindi che lo apre ad una dimensione che se davvero può essere vissuta vedendo in questa sfida nel capasso qualche cosa di assolutamente difficile ma anche assolutamente usiasmante può rivelare la salvitica della grazia nel senso che questa è in un percorso come quello che in mio libro ho cercato di descrivere con una parola un po' se volete provocatoria ma che sento di ripetere che è la parola cristoterapia cristoterapia non vuol dire fare del cristianesimo una terapia carismatica non vuol dire pensare che si può con la preghiera o soltanto con la preghiera non vuol dire pensare che con le pagine del Vangelo si guariscono le malattie ma vuol dire pensare che c'è una dimensione del Dio vivente tra noi di Gesù di Nazare detto al Cristo vero Dio e vero uomo vero medico del corpo e della mente degli uomini e che contemporaneamente cura coloro che curano cura coloro che vengono curati da coloro che curano e quindi in questa cune appartenenza al mistero di un Dio che accoglie di un Dio divino che è anche umano di un Dio misericordioso e caritatevole la dimensione della Cristo diventa una fonte permanente di speranze in un mondo che sembra non avere alcuna speranza una dimensione permanente di carità e di amor in un mondo in cui tutto ogni giorno sembra far perdere la voglia di amare e la voglia di accogliere e quindi la presenza del vivente che ad un tempo nella parola sacramentale d'eucaria dovrebbe vedere una generazione di operatori illuminati dalla buona notizia evangelica che è rafforzati dalla potenza dello spirito che sono la spina d'ossè anche di psichiatria umanizzata che riesce però a considerare l'uomo non come una macchina psichica o biologica o neuro da rimettere in linea ma come un mistero divino umano bisognoso innanzitutto di una dimensione di incontro e di fraternità questa è un'azione non facile certamente ma è anche a dimensione l'unica che io poi ho visto in pratica è in grado di sostenere le esperienze comunitarie che davvero riescono a sopravvivere a se stesse perché questo è un mondo in cui le esperienze nascono muoiono abbastanza velocemente reggono per il tempo in cui sono sostenute dall'entusiasmo di chi le ha fondate ma poi se non hanno la loro azione saldamente fondata nella roccia della parola e nella dimensione della buona notizia evangelica durano lo spazio dell'entusiasmo di chi le fa vivere mentre invece per fortuna siamo forti di verità che non si esaurisce analisticamente noi stessi ma ci affidiamo al mistero come dire che non ci santifica ma che perlomeno ci salva o perlomeno no ci auguriamo che ci salvi a noi nella dimensione della misericordia e dell'amore di Gesù grazie grazie Chiunque vuole venire su queste tematiche affascinanti e così coinvolgenti, non fa altro che chiederlo, ma credo che è pronto un microfono. Io avevo preso il microfono per portarlo a chi voleva intervenire, ma visto che c'è... Ho parlato di carità di rompere il ghiaccio. No, quello che ha detto il professor Meluzzi è estremamente stimolante e credo che avrebbe la penna fermarsi qui ancora per 3, 4, 5 ore e parlarne, cosa evidentemente non fattibile, soprattutto data la giornata che il professor Meluzzi ha alle sue spalle. Ma c'è una giornata di tutto riposo in confronto a quelle con i pazienti. Ma c'è una cosa che mi stimola molto e di cui vorrei sentire un breve approfondimento. E' la formazione, l'educazione. Allora il cristiano ha un suo compito che si tratta di operare, però se noi guardiamo anche tutti questi giovani, questi sono sottoposti a più sollecitazioni. Quindi ci sono le sollecitazioni della famiglia, per esempio, che possono essere anche positive se la famiglia è nello spirito che lei ha illustrato, ma poi ci sono i compagni di scuola, ci sono gli insegnanti, ci sono tutta la società civile intorno e che naturalmente li sollecita in un modo non sempre opportuno. E' un po' una tutta tra il bene e il male. E chi vince? Allora mi chiedo, è importante non solo l'educazione nella formazione del giovane, del figlio, ma anche sulla società, in maniera tale che la società non sia così negativa. Questa era un po' la domenica. come la maddalena può prorompere nella sequenza del giorno pasquale. Raccontaci Maria che è sulla via. La gloria di Cristo risorta, angeli, i suoi testimoni, i suoi sari e le sue vesti. Il Signore della vita era morto, ora è vivo e trionfo. Quindi noi siamo, come dire, testimoni della sfitta di Dio, ma anche della resurrezione. E quindi siamo forti della potenza del giorno pasquale anche quando siamo deboli, anzi, soprattutto quando siamo deboli. Quando siamo deboli. San Paolo dice che sono forti quando sono deboli. E quindi noi siamo forti anche come cristiani quando siamo socialmente deboli. La prova di ciò che dì sta nella storia della Chiesa, per esempio. I tempi di massima potenza, forza, carisma, carità, amore della vita della Chiesa sono stati i primi tre secoli di storia cristiana. Che sono stati l'era dei martiri, dei padri, della didachè, della lettera di Ogneto, della Chiesa delle Catombe, ma anche della Chiesa dei Grandi Santi. Anche della preparazione dei grandi concili che hanno fondato una fede che arriva fino a noi. Il Cardinale Biffi diceva che il più attuale, più moderno per la vita della Chiesa attuale è il concilio di Nicea. Sono profondamente d'accordo. Quindi è dal credo che bisogna ripartire per fissare i capisaldi della risposta a queste domande. Allora, se è vero che il mondo è com'è, il mondo in cui noi viviamo oggi non è così diverso dal mondo dei primi tre secoli di storia cristiana. Viviamo in una meravigliosa società quasi perfettamente paganizzata, non c'è più Costantino, non c'è più l'alleanza da trono all'altare, è tutto meravigliosamente caotico. I cristiani a queste latitudini non sono ancora perseguitati, ma non lo saranno presto, ad altre latitudini già lo sono. Il vento dello spirito soffre potente, questo non lo dico per un atteggiamento carismatico apocalittico, ma perché sono convinto che l'uno deve vivere il tempo della fede nella sua epoca. Probabilmente chi viveva nella Roma di Pio IX aveva una visione del mondo e della Chiesa diversa da chi vedeva lo stesso mondo da Torino. Faccio una battuta per dire come molto spesso il cristiano è un po' come la quina, più al vento che gli rema contro e più in alza. Io penso che Don Bosco, oggi celebriamo la festa, è il dia di Natale, è il giorno della morte, ovviamente, per i cristiani. Se è nato a Vantone o a Sora, probabilmente al tempo delle sue previsioni sarebbe finito per ordine del suffizio un monastero cistercese a meditare sulla sua follia. Mentre invece, ci vivendo nella Torino, dei massoni, dei Savoia e di una laicitante clericale forte, ha trovato un interstizio in cui, dovendo in qualche modo i Savoia dimostrare il loro non totale atteggiamento anticattolico, ha potuto trovare anche lo spazio e le risorse per diventare Don Bosco. Stesso per dire che avere un mus apparentemente favorevole non è l'abita del cristiano. Il nostro Signore ce l'ha testato alla sua vita, i padri degli apostoli in massimo grado, i padri della Chiesa anche. Quindi il fatto che noi viviamo in una società quasi perfettamente cristianizzata dovrebbe permetterci, come dire, una dimensione di una sfida ancora più entusiasmante, ancora più fresca, ancora più apostolica. Quanti giovani? I giovani capiscono soltanto la legge dell'entusiasmo, come dice l'ettimo della parola, entusiasmo, en seos. Quindi possono vivere anche nei mondi più aberranti o vivere le esperienze in sé più tragiche, ma se riescono a cogliere il vento dello spirito e della profezia nella loro famiglia, in qualcuno che annuncia la verità, in un educatore, non è difficile incendiare il cuore dei giovani. Io infatti mi sono convinto che se il cuore di chi ci circonda non si incendia, non è perché le stoppie sono bagnate, ma perché è la temperatura del nostro cuore che non arde ad una temperatura sufficiente ad incendiarla. E la temperatura della nostra fede, che non arde ad una... perché la fede è vera e può spostare le montagne, ma c'è lo testimone della vita della Chiesa, soprattutto nei primi secoli. E quindi io credo che tutta questa gerenia dei cattolichini del nostro tempo, sullo tempo, Romores, o come è brutto il mondo adesso, come era bello 50 anni fa, adesso tutti sono cattivi, i nostri nonni ti erano buoni, ma sono tutte balle. Ma guardate che il mondo è campagna e enete cattoliche dell'Ottocento, era un mondo pieno di stupri, di violenze, di sopropraffazioni, di pellagra. Non credete mica che il bel tempo antico fosse il paradiso, così come il tempo antico non era il paradiso, il presente non è l'inferno. Ogni epoca aveva avuto i suoi crismi, i suoi santi, e quindi in ogni epoca ci sono state pietre vive, come dice grande Jean Danielou, Ogni epoca ha avuto le sue pietre viventi, i suoi alberi della vita, che sono i santi, che sono gli unici teologi eutrizzati, che hanno testimoniato Cristo con la loro vita, con le loro parole, con le loro opere, nei modi e nelle forme dell'inculturazione del Vangelo e del loro tempo. Quindi i santi del nostro tempo sono quelli che annunciano la parola di Dio e la testimonianza vivente di Cristo nella coinonia del cherigma apostolico, del loro presente, nel tempo in cui vivono. Quindi i santi del 2010 non sono i santi del 1810, non sono i santi del 1510, non sono i santi del 610, come Gregorio Magno, ma ognuno vive la sfida del suo tempo. Il nostro tempo è una sfida di giovani disorientati soprattutto, sgangheati, soli, malinconici, a cui sono mancati soprattutto gli altri giovani. Perché i giovani, se c'è una cosa che gli dice dei giovani del passato, i giovani del passato sono nati in delle corti di pari, con dieci fratelli, cento fini, e sono cresciuti tra tanti piccoli che magari competevano per un sacchetto di mandarini, una tavoletta di cioccolato o una palla di straccio. Mentre invece questi ragazzi sono cresciuti soli e quindi sono fragili, vulnerabili, ma così come sono vulnerabili sono anche sensibili. Probabilmente più di quello fossero i loro nonni, che magari erano apparentemente più coerenti, più cattolici nella forma, ma avevano il cuore meno tenero, perché erano con i piedi molto saldamente piantatati per terra, con alcune certezze etiche. Ma questi giovani sono di una vulnerabilità assoluta, anche facili, emozioni, facili anche a perderle. Però non sono difficili da raggiungere, testimoni proprio con la mia esperienza quotidiana, anche di vita pazzorale. Certo bisogna avere voglia, voglia di mettersi in gioco, come con i matti, però tutto costa fatica. C'è il loro problema, secondo me, non sono gli altri, siamo come colpe peccate, non sono mai i peccati degli altri, sono sempre i nostri peccati. La redenzione, non è mai il problema della redenzione degli altri, magari cominciare a redimere noi stessi, di trasmettere con la nostra vita la speranza. Mentre invece noi utiliamo sempre cose come se la malattia fosse una malattia fuori di noi. Ma la vera malattia è dentro di noi. Prima di guardare la pagliuzza nel trave del fratello, vediamo la trave che è nel nostro, è spesso una trave fatta di indifferenza, di giudizio, di distanza, di presa, di distanza. Invece ci chiede aiuto, perché è molto faticoso farlo. Grazie. 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 questa è quella delle case famiglie della giovane 23esimo, ma mentre nelle case della giovane 23esimo il modello è quello di uno o due soggetti del disagio, per lo più disabili psichici nel suo caso, o giovani prostitute, inseriti in una famiglia, io faccio comunità da 30 anni, però la comunità Agape è nata 12 anni fa, ho constatato che il problema della psichiatria grave, del disagio psichico-psicotico, dell'alternativa all'ospedale psichiatrico-giudiziario è inapplicabile, nel senso che era difficile trovare delle famiglie che potessero ottenere nel proprio nucleo familiare tre o quattro pazienti, perché era oggettivamente ingestibile e anche tutte le leggi non lo consentivano. Però il modello che noi abbiamo applicato, gruppi a paramento, case e famiglie, in cui vivono i pazienti, intorno a cui vivono le famiglie che fanno gli operatori, e in cui c'è una rotazione di personale come prevista dalle normative legislative vigenti, anche perché già spezzare comunità che fino a 10 anni fa non potevano essere meno di 20 ospiti con una struttura di tipo un po' paramanicomiale, che sono le prime nelle quali ho lavorato, significa già sfidare noi, mentre invece le case d'azienda più sono piccole più sono umane, però diciamo c'è una dimensione critica che sta tra i 5 e i 10 ospiti, i pazienti, intorno a cui sta in un rapporto 1-1 un numero di 5-10 operatori, e quindi questa è un po' la dimensione, e quindi la dimensione di allargare fondamentalmente. Il segreto è detto che tutte queste comunità devono essere in rete, cioè io lo chiamo il nostro piccolo monte Atos della diversità, noi abbiamo 8 cascine dislocate tutte nel raggio di 5 km quadrati, e quindi sono, come nella mia descrizione, un po' immaginifica, come tanti piccoli monasteri che si ritrovano tutti in alcuni momenti, prima tra tutto l'Eucaristia domenicale nella battaglia di Vezzolano, con padre Orazio, che è il sacerdote che lavora insieme a noi, e quindi si percepiscono anche come una comunità di comunità, ma in cui ognuno vive la casa dove vive come la sua casa, e non come un ospedale o una struttura psichiatrica, e quindi questa dimensione di casa d'accoglienza, infatti le chiamiamo casa di convivenza guidata, ha il suo punto veramente debole, cioè il suo punto sensibile, nella temperatura del cuore di chi accoglie, e lì la cosa in cui è più difficile fare la manutenzione, cominciando da quello di mio moglie, quello di padre Orazio, cioè anche perché il pesce quando puzza, puzza sempre dalla testa solitamente, quindi la prima è il cuore, ciò che bisogna vigilare è il nostro, di lì a scendere tutti gli altri, e sicuramente tutto questo non può essere mantenuto con nessuna forma di organizzazione autoritaria, o di discipline, ma ci vogliono però un mix di regole, di motivazione, in cui alla fine bisogna fare un po' la prudenza, perché quello che noi facciamo è anche il risultato x misterioso tra il nostro libero arbitrio e la grazia che ci viene in conto, senza fideismi, ma alla fine devo dire che le cose che accadono, quelle buone, sono sempre risultate di un piccolo miracolo, ecco, questo lo dico senza tema di smentire, perché davvero molto molto spesso ciò che noi crediamo essere, quello che è bene fare, sarà poi una rivelazione che giorno per giorno il nostro discernimento deve distinguere, che ci dice se era giusto o non era giusto fare. Sì, nelle quali sono probabilmente psicotrici, anche perché sono gli unici per i quali poi il Servizio Sanitario Nazionale fa un investimento, noi abbiamo pazienti tutti inseriti dal Servizio Sanitario Nazionale, tranne al convento di Cori, vicino a Roma, dove ci sono le famiglie che inseriscono, dappertutto lavoriamo in stretta intanto con i Dipartimenti di Salute Mentale, con progetti individualizzati che poi le ASL vengono a verificare mese per mese, salvo che le ASL poi pagano le loro rette con un anno di distanza, quindi c'è un problema di cash flow drammatico, per cui per esempio, su Puperfluo dire, ma lo dico come un elemento di follia, è chiaro che poi bisogna sopportare dei castelletti bancari di 2-3 milioni di Euro, perché poi ci sono 50 stipendi da pagare, perché poi queste normative impongono che ci siano operatori, gli operatori devono essere tutti qualificati, devono essere educati professionali, OS, quelli che non lo erano dovuto diventarlo come una formazione, psicologi, medici, e quindi c'è un assetto che è del tutto uguale per quello che riguarda la formazione del personale a quelle di strutture classiche, che è innovativa nella strutturazione, nei fini, ecco, questa è la differenza. La legge deve avere lo stesso personale, lo stesso minutaggio, come si dice con una parola tragica, di figure professionali che c'è in tutte le altre strutture, soltanto che reggerlo con 20 ospiti concentrati in un punto è un costo, reggerlo con personale spalmato su strutture dai 5 ai 10 ospiti, chiunque si intende un po' di rizzazione ne sa bene cosa voglio dire, e quindi sono strutture in grave perdita economica, in drammatica situazione di caspio, però l'esperimento è positivo nei risultati. Io devo dire che, chiederlo a me è un po' come chiederà l'oste Servini e Buono, ma obiettivamente devo dire che io, confrontando la comunità Agape con altre tre comunità che dirigo, di cui sono direttore sanitario, devo dire che nella nostra comunità noi gestiamo situazioni che in altre comunità con più personale, più intensità di controllo, non siamo stati i casi di gestire. Io sono direttore di una comunità Calamandranda, sono stato stamattina, dove ci sono rette di 200 euro al giorno e c'è una struttura molto sanitaria. Io stesso ho trasferito da quella comunità ad elevate intensità sanitaria pazienti in una casa di accoglienza di Agape dove la retta è di 80-90 euro al giorno e con un'intensità assistenziale più bassa ci sono rette situazioni che là non si reggevano, perché c'è un livello di umanità più alto, che è quasi un obiettivo, però non è scontato. Ecco ma che ho trasformato, e che dice che la comunità è il luogo dove persone non del tutto sane si occupano di persone non del tutto ammalate. Se io avevo, sarebbero tante domande, compresa quella, una cosa sul disagio giovanile. Io credo che il tipo di società che si è sviluppato pone abbastanza il problema di un disagio giovanile che può diventare effettivamente psichico in modo abbastanza grave. Vorrei un suo commento. La ragione principale per cui questo disagio giovanile è una società, diciamo così, fatica e sofferenza è legato ad un complesso di fattori, in parte antropologici, in parte direi anche demografici. Il primo da tutti è la crisi della famiglia e quindi la difficoltà sperimentale dei legami di attaccamento studi e rassicuranti. Il secondo è la crisi di un'educazione tra pari, come dicevo, e quindi una certa crisi di questa dimensione verrà a rapporto con un gruppo di persone con le quali si forma una coralità, perché il vecchio mondo montadino non era certo il paradiso, è tutt'altro, l'ho detto prima, però certamente era un mondo in cui difficilmente si viva lasciati soli. Era difficile, per esempio, che una giovane donna fosse lasciata sola con i suoi sentimenti di inadeguatezza e di depressione post-parto tanto a mettere il suo bambino nella lavatrice, perché c'erano intorno a lei sorelle, madri, suocce, cognate, cugine, eccetera, una coralità di donne, così come era difficile che un uomo che cominciava a tralignare dalla retta linea, dalla retta via, che si metteva a bere, andare all'osteria e non andava più nei campi, fosse lasciato solo, perché c'erano fratelli, cognati, cugini, genitori, c'era una coralità. In questo mondo corale, non so se si fu liberi, certamente si era meno soli. Adesso questi giovani escono in una dimensione molto frammentata di relazioni e molto instabile. In questa solitudine è comunque un momento di passaggio in cui i modelli familiari, per buoni o cattivi che siano stati, contano di meno ed è importante essere accettati in un gruppo di pari. Se le regole e gli eriti di quel gruppo di pari implicano comportamenti più pericolosi, tipo le droghe, per esempio, ma non solo, ebbè, quello è un grosso guaio. Quindi direi che la crisi di giovani oggi è una crisi di solitudine. E poi c'è anche una certa crisi di prospettive, perché forse è la prima volta nella storia dell'umanità, almeno negli ultimi tre secoli di storia europea, che i giovani hanno la sensazione, peraltro, realistica che la loro vita sarà economicamente, materialmente peggiore di quella dei loro genitori. E si è anche interrotto quella dimensione di crescita che dava un po' un senso, se volete anche un po' la morale eteroga, per cui un contadino analfabeta riusciva meno ad alfabetizzare suo figlio a farne un mezzadro, il mezzadro voleva avere un figlio geometra, la geometra faceva il figlio architetto, l'architetto il figlio professore universitario, non lo so. Adesso questo flusso si è interrotto. Per cui la dimensione... Scusate, pronto, pronto? Ehi, facendo una conferenza... Vadova, padre Angelo, eh? Ci vediamo domani mattina, eh? Va bene, vengo a mettere un quadro, 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 eh? Stavo a mettere un quadro, stavo a mettere un quadro, questo è il mio frattino della diocesi lungo a cui vado a fare cacco come al mattino, mattina alle sette e un quarto, quindi... Vabbè, comunque, dicevo che questa faccenda della solitudine e della crisi di prospettive è una cosa realistica, è detto mica del diavolo, sarà la globalizzazione delle nuove tecnologie, ma certo questi giovani hanno la sensazione che la loro vita sarà diversa da quella che forse i loro geni peccavano, però oggi ha le sue difficoltà, io credo che quelli che hanno dovuto partire come fa la prima guerra mondiale hanno avuto i loro problemi, quelli che hanno vissuto la seconda guerra mondiale hanno avuto i loro problemi, quelli che hanno vissuto la peste del centro di Renzo e Lucia e della guerra tra i francesi e gli spagnoli hanno avuto i loro problemi, quindi non so se la condizione di questi ragazzi sia la più disperante della storia, è quella della loro storia e del loro tempo, e ogni sfida ha le sue regole e i suoi linguaggi, il credente cristiano è colui che segni dei tempi e riesce a trasferire la metastoricità e l'assolutete di questa rivolione nell'inculturazione del suo tempo. Tutto qua. Grazie. Grazie. Professore, quante di queste persone mediamente che vivono in queste comunità riescono poi a raggiungere uno stato da poter vivere una vita normale fuori dalle comunità? Grazie. Questa è una bella domanda e dipende molto dalla diagnosi, in qualche caso succede, quando si tratta di psicosi è molto difficile, nel senso che bisogna intenderci un concetto di esito di riabilitazione, perché se raggiungere uno standard di recupero vuol dire poter vivere da sui in un piccolo appartamento di periferia e da autodeterminarsi completamente, guadagnando uno stipendio di 900 mila Euro al mese, che questa sia la normalità, probabilmente una normalità nella quale non sarei mai riuscito a sopravvivere. Io stesso ho dovuto invernarmi una vita più complicata, più fantasiosa, più ricca di così. E quindi pensare che recuperare la salute mentale sia poter fare l'operaio e vivere in un piccolo appartamento di periferia di una banlieue metropolitana di una città è evidentemente un punto di vista, ma non è l'unico. Allora io credo che rispetto a quest'idea ci sia invece una situazione sfumata che passa attraverso le situazioni in cui una buona comunità è quella che sa proporre anche tutta una filiera di passaggi successivi, in cui per esempio si può passare da una comunità protetta ad un gruppo appartamento, ad una casa di comunità dividata con un numero di ospiti più ristretto e poi magari si può andare a vivere insieme ad un altro paziente con una borsa lavoro in un appartamento. Noi abbiamo anche degli appartamenti con un ospito o due che hanno magari una borsa lavoro. Pensare però che ci possa essere una situazione in cui noi simuliamo una perfetta normalità di due lavoratori sposati con due figli coabitanti in un appartamento con due stipendi da 1000 Euro, beh questa è palesemente un'illusione, anche perché mi pare che sociologicamente stia diventando un'illusione anche per i cosiddetti sani e quindi pensare che possa diventare un modello di normalità per gli schizofrenici mi sembra effettivamente un'ipotesi del tutto realistica. Buonasera, professore, io ho lavorato in azienda ospedaliere di Padova e queste persone che lei ha accennato, psichici, ne ho visto a migliaia, però viene a mancare la solidarietà che è fondamentale per le persone. Anche noi nel corso di vita che noi viviamo, noi cristiani, quando vediamo che persone che sono emarginate, disperate, giriamo le spalle, ci torna conto girare le spalle perché ci pesa, non abbiamo il coraggio e la forza e viene a mancare veramente l'amore. E allora io mi interrogo, io come cristiano, cosa vado a fare di fronte a Dio quando c'è il Vangelo? Lei è accennato, avevo fame, avevo sete, ero nudo, era malato, non siete venuti a trovarmi. E allora io dico perché, perché noi cristiani non ci sentiamo dentro questo amore di trasformarlo agli altri, di donare dieci minuti o mezz'ora la settimana, a avere il coraggio di suonare il campanello e andare a trovare Antonia, Pietro, Andrea e dire come stai Andrea, come stai Antonia? Sono venuto a darti una stretta di mano. Questo è il vero Vangelo. Noi cristiani abbiamo paura noi stessi di fare questo passo di qualità, ma se la coscienza e l'amore non la portiamo fuori nel nostro cuore, non siamo dei buoni cristiani, siamo molto lontani, molto lontani e dopo diciamo che di fronte a Dio noi risponderemo. Al cospetto di Dio ci dirà cosa hai fatto per il tuo fratello? Hai donato mezz'ora? Hai donato dieci minuti? No. Ti dirà non puoi passare. E poi, poi, associazioni, ci sono. La Chiesa, a volte mi interrogo cosa fa per queste persone psichiche. Cosa fa? Cosa fa? Io ne ho parlato, io associazioni, forum, salute mentale, che sono andato in televisione per scuotere l'opinione pubblica, per scuotere le coscienze, ma non c'è stata nessuna risposta. È più facile tacere, è più facile sentirsi dentro chiusi perché non abbiamo il coraggio e l'amore di uscire dal ghetto della famiglia e andare fuori e vedere quel fratello o quella sorella che ha bisogno di una parola di speranza e di amore. È il messaggio più grande che posso dare, lo dico quel cuore. Io sono 17 anni che ho anch'io purtroppo un raso malato, però non lavoro solo per Andrea. Lavoro per questa associazione, attualmente abbiamo circa 45 mila malati nel Veneto. Senza contantare quelle famiglie che per l'omertà tacciano, perché si vergognano, si vergognano, perché là di fuori da famiglia non c'è una risposta. Ecco perché ho detto noi cristiani cosa facciamo con queste persone? Siamo o non siamo cristiani? O siamo peggio dei pagani? Ecco che è questo che mi do il cuore. Abbiamo una società malalata di valori, una società che cerca solo è proprio io. Te non ti conosco, chi sei tu? Un esempio, vado a messa, esco da messa, Andrea viene a messa con me, le persone che lo conoscono girano le spalle, si vergognano e questo sarebbe la carità cristiana. Noi cristiani siamo peggio dei pagani, scusate e se lo dico. Io lo dico col cuore di padre. Perché io combatto la mia battaglia? Perché credo in Dio. Dio giudicherà le nostre opere e chi sbaglia paga. Di fronte a Dio paghiamo tutti. Mi sento con la coscienza a posto, secondo il mio punto di vista. Ciò che do, lo do con amore e con sostegno agli altri. Grazie. La sua testimonianza ha il sapore di una catechesi. Dall'altra parte è Caino che dice sono forse io il custodio di mio fratello. Tutti siamo chiamati in qualche modo all'apertura e all'amore dei più fragili. L'innono della carità di Paolo Icosti ce la ricorda, come la carità. La carità è venita, la carità c'è a dire, la carità non è invidiosa. Ho visto adesso delle cose molto brutte, pochissime belle, pochissime. Non perdiamo la storia. la carità di Paolo Icosti ce la ricorda. La carità di Paolo Icosti ce la ricorda è la carità di Paolo Icosti ce la ricorda. Grazie. E professore lei ha parlato di narcisismo e del ridimensionamento della valutazione del narcisismo nella nuova classificazione. Poi ha parlato di psicanalisi che a volte sembra andare alla ricerca di un narcisismo occulto, no? Per le persone. Vorrei sapere come nella sua pratica professionale usa la psicanalisi e qual è la sua parere in proposito? La mia pratica professionale è l'acquistenza del mio narcisismo, quindi io credo che la cosa fondamentale nella mia pratica professionale è di distinguere i diversi bracci della mia vita professionale. Un braccio è quello della vita di comunità e lì la mia formazione psicoterapeutica consiste soprattutto nel tentare di fare oltre che delle diagnosi corrette e soprattutto delle diagnosi corrette e dell'evoluzione dei quadri, una certa manutenzione della vita psichica che ha di coloro che curano la cosa veramente delicata nella vita della comunità. E nella mia pratica invece psicoterapeutica dei pazienti e dei mestri profanali è quello di cercare di mantenere proprio per evitare il rischio del narcisismo un profilo che distingue la dimensione della mia vita tra virgolette pubblica a quella dell'incontro con ogni persona che è in sé unica preziosa istituibile. Nel senso che sennò il rischio che il sogno anziché trovare me, trovino una caricatura di me e quindi vengano da me come sono date da un direttore spirituale cosa che non sono in quella sede, da un guru cosa che non sono o da una persona come dire che fa una psichiatria di tipo particolare. Mentre invece l'accordo mentale della relazione terapeutica personale è quella di spogliarsi di sé perché l'altro possa in qualche modo rivelarsi e avere un incontro autentico. Quindi il tentativo è proprio quello di cercare per quanti po' di non prendersi troppo sul serio. Buonasera, io sono un collega e ho fatto ancora lo psichiatra da parecchio tempo e mi pare che la prima che sta prendendo adesso il discorso diventa più realistica e comprensibile. Sì, quando si parla sia di religione che di psichiatria credo che ci si perde, o meglio io ho avuto l'impressione di perdere il senso della misura nelle cose. Mentre parlando, facendo adesso di esperienze personali, di rapporti con i pazienti, i problemi vengono fuori nella loro concretezza. Se devo dire, qualcosa della mia esperienza personale, mi sono sentito molto a disagio nella prima parte perché ho sentito la sua esperienza molto lontana dalla mia. Nel senso che io ho sempre frequentato la chiesa, sono in maniera dei gesuiti, però devo dire che nella pratica professionale il mio aspetto religioso era stato dentro di me e se avevo una spinta a fare qualche cosa che ne mettesse in comunicazione la mia vita personale e quindi di affinare la riflessione su me stesso, la psicoterapia, le esperienze psicoanalitiche. Ma questo è finalizzato ad avere una capacità di ascolto e di relazione con i pazienti che fosse in qualche modo la più affinata possibile. Questo sia lavoro e servizio pubblico che adesso sono occupato del lavoro nella mia attività libero e professionale. O nel lavoro più difficile, come ha accennato lei adesso, che quello di mantenere una capacità e un assetto di ascolto nei gruppi che lavorano con i pazienti gravi in particolare. Quindi il mio contributo era soltanto un pochino questo, perché forse il problema del narcisismo è grossissimo nel nostro lavoro, quello dei psichiatri, perché abbiamo pochissimi punti di riferimento esterni a noi stessi che ci consentono però di essere in contatto adeguato con le persone con cui ci intratteniamo. La psichiatria credo che giustamente fa parte della medicina e sono convinto che l'essere entrati nel servizio sanitario nazionale sia stato importantissimo, perché l'essere negli ospedali psichiatrici era una condizione di marginalità terribile e questo credo che sia giusto anche richiamare l'aspetto della società civile che ha delle responsabilità grossissime in tutto questo. in passato lo aveva, oggi credo che l'abbia lo stesso o forse neanche di più, perché finalmente ha cominciato a pensare che esiste questo problema. è un intervento molto interessante, io penso a questo, colgo anche la forza tra l'obiezione, io come scelta personale mi sono trovato in un certo tempo della mia vita umana, personale e professionale, a mettere in discussione il paradigma della cosiddetta naturalità terapeutica, cioè del fatto che lo psichiatra dovesse completamente spogliarsi della propria identità antropologica per assumere appunto quella che tu chiamavi la raffinatezza della relazione psicoanalitica. Io credo che questo non corrisponda a nessuna delle caratteristiche del bisogno di incontro autentico che ci viene dai pazienti, né da quelli della pratica professionale e ancora di meno da quelli della vita comunitaria. Però mi rendo conto anche del rischio che ci possa essere una sorta di funcionalità gruppale che per uno psicoanalista diventerebbe immediatamente sinonimo di paranoia, che crei un gruppo tra virgolette spiritualmente ispirato e quindi diventi inglobante rispetto a chiunque ne faccia parte, soprattutto se fa parte la parte più vulnerabile che sono i pazienti. Allora io mi sono fatto questo modello mentale, così come c'è un modello educativo cristiano nella scuola che non significa che chi va in una scuola cattolica riceve un dottrinamento di tipo cattolico, ma c'è un modello educativo di cui la scuola cattolica è portatrice che passa attraverso alcuni valori cari e alcune dimensioni e proposte di eventi educativi e esperienziali. Le cose che su queste cose scriveva per esempio Don Giussani sono fondamentali, nell'evento educativo la soggettività dell'educatore e la sua storia è un fatto esperienziale che si trasmette. Quello che avviene nell'esperienza della scuola secondo me avviene anche in qualche modo nell'esperienza delle comunità ed avviene inevitabilmente anche nell'esperienza della psicoterapia. Le persone che vengono da me in consultazione o che vengono da me in studio non posso pensare che escludano, che abbiano letto le cose che ho scritto, i libri che ho scritto, gli articoli che scrivo e che abbiano la percezione antropologica di chi sono io. Ecco non posso pensare di far trovare loro delle pareti disadorne, una perfetta sterilizzazione dei rapporti e l'assoluta neutralità della mia persona. Non fosse altro perché sarebbe realistico. Io quindi mi pongo quello che posso della verità della mia esperienza, delle mie fatiche, delle mie forze, delle mie debolezze e coloro che vengono interagiscono con una bottiglia che porta un'etichetta che illustra bene il suo contenuto. Questo naturalmente traviene da alcuni paradigmi della psicoterapia classicamente intesa, almeno nel modello analitico, che però secondo me è smentito dalla sua stessa storia. Anche poi in realtà il concetto di neutralità decantato come metalinguaggio non è tale neanche nella storia delle esperienze psicoterapeutiche di nessuna scuola, né di la psicoanalitica africana, né neanche mai di quella africana, né di tutte le esperienze delle psicoterapie umanistiche, tra persorzionali o transizionali o sistemiche di tutti questi due decenni. E quindi io credo che questa cosa un po' folle della cristo-terapia, che sembra una follia sia in termini teologici che in termini psicologici, sia il vero spazio di sperimentazione in cui io sto cercando di situare quello che resta della mia vita terrena. Lei giustamente ha solineato come momenti carne del disagio giovanile attuale, la franquazione, il dissesto della famiglia e la solitudine in cui sono i giovani. E io temo che i computer da un lato, i telefonini dall'altro, accentuano ulteriormente, ancora di più, la solitudine dei giovani, rendendo il rapporto sempre virtuale. Questa mia visione molto pessimistica legata a questo sviluppo tecnologico dell'umanità futura, secondo lei potrebbe avere qualche motivo di ravvedimento? Appvedimento? Oppure è usurabile la denza? A cui non sapremo porre rimedio? Ma anche qui io non sono lì che, anche rispetto al rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie, un atteggiamento passatista. C'è tutto il contrario di tutto. Il web è un grande oceano in cui nuota di tutto, come nell'oceano nuotano pesci velenosi, ma anche pesci commestibili, pesci mostruosi, ma anche pesci bellissimi. Certamente nel mondo della grande rete ci sono occasioni di contatto, di relazione, di informazione, come l'umanità non ne ha avuti mai. Che questo poi abbia il sapore di una certa virtualità che può sterilizzare le relazioni interpersonali vere, in parte vero, in parte no. in parte tende, come dire, a rendere i rapporti interpersonali in qualche modo disincarnati, dall'altra però aumenta anche le occasioni di informazione, di circolazione delle idee. Credo che fosse Tommaso che diceva che natura forma percipienti spercipiti, la natura è percepita nella forma del contenitore che la condiene. Quindi io credo che i mezzi non siano neutri rispetto al loro contenuto, però sono un segno della storia che li abitano e da cui sono abitati. Per esempio, senza i cartelli a più longo, mobili da stampa di Gutenberg, non ci sarebbe stata la riforma protestante e non ci sarebbe stato il vero, perché la Sacra Scrivola sarebbe rimasta negli emanamenti dei monasteri. Senza il telegrafo non ci sarebbe stata la guerra di secessione o altre cose che hanno a che vedere con la storia dell'Ottocento. Senza la radio non ci sarebbe stata la storia dell'Ottocento, non ci sarebbero state neanche le grandi dittature probabilmente. Senza la televisione come sarebbe stata la storia della seconda metà dell'Ottocento. Oggi c'è la rete di Internet, c'è e non possiamo far finire che non ci sia e quindi il mio non è un atteggiamento, diciamo così, pseudo-eghinano, ciò che è reale, ma certamente la tecnologia segue il tuo ritmo, è una propria scansione, tecnologica autonomia, per cui se è una cosa tecnologicamente possibile, è quasi impossibile che non si realizzi, quali che essa sia, pur che appaia generabile in un tentato di persone. E quindi credo che fine anche qui. La risposta sta in una statistica. Sapete qual è la prima patata sul web? Sapete qual è la parola X? E sapete qual è la seconda digitata? La parola Cristo. E' interessante questa statistica. C'è la gadice lunga. E allora, però, questa statistica contiene anche qualche seme di speranza, però. Qualche idea seminale di speranza. Io ritengo che questa sera noi abbiamo sentito e probabilmente anche vissuto interiormente un'esperienza estremamente interessante e che probabilmente, non dico che cambierà totalmente la nostra vita, perché è più difficile, ma avrà veramente un infusso. Poiché furono queste parole che sono state definite dall'autore come provocatorie, che tuttavia sono da meditare profondamente. Per me sono non provocatorie, ma veramente delle buone indicazioni. Io perciò personalmente ringrazio molto il professor Meluzzi di queste sue provocazioni e della sua presenza qui su noi. Spero che, almeno, non la tutta, ma usiamo una buona parte, voi si è raccordato con me. Oppure, diciamo, non la buona parte, ma la parte più saggia, più attenta, si è raccordato con me. Spero che quello avvenga. Ecco, quanto... L'esperienza del archica della Chiesa è destinanza della sua memoria apostolica. Invece, ecco, annuncio, avete già visto, l'annuncio che la prossima volta ci sarà il dottor Attoli, che è stato un ande battista del Corriere della Sera, che certamente non entrerà nelle questioni così, non dico sottili, così intriganti stasera, ma invece cercherà di qualcosa di molto tranquillo, da quello che io ho anche capito conversando con lui. Il tema, come sapete, è l'accoglienza di stanesimo dopo la società civile. Quindi, sarà tanto positivo. Sarà talmente positivo che rimpiangeremo coloro che invece non vedono il positivo. Spero che non sarà così. Ecco, quindi, ci vediamo il prossimo lunedì, per sentire la voce che ci tranquillizza, che farà in modo che invece di, come questa sera, essere così presi da grandi preoccupazioni, in modo da dormire più felici. Buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.